Vi ricordiamo che la conferenza è registrata e andrà in diretta sul canale YouTube della Sala Dialogo. Buonasera, ben arrivati. Tra cinque minuti daremo inizio alla conferenza con Don Renato Sacco. Benvenuti in Sala Dialogo da Riva del Garda. So che ci sono alcuni amici che ci seguono anche della Fraternità di Papiano. Benvenuti. Papiano è in provincia di Arezzo, lo dico per i nostrani, e siamo felici di avervi con noi. Fra cinque minuti inizieremo l'incontro e vi ricordiamo che la conferenza è registrata e andrà in diretta sul canale YouTube della Sala Dialogo. Renato, possiamo iniziare? Allora, benvenuti a tutti. Ma richiedo a Luca se riesce a mettere l'oratore. Benvenuti a tutti in Sala Dialogo. Allora, è un piacere con noi iniziare un altro appuntamento della nona edizione delle conferenze Scrutari Orizzonti, organizzati dal gruppo Dialogo e Sala Dialogo qui a Riva del Garda. Come sempre è un appuntamento, una proposta per riflettere sulle tematiche che ci interrogano quotidianamente. In questi tempi abbiamo voluto fare un approfondimento sul tema della pace e quindi per interrogarci stasera abbiamo pensato di coinvolgere Don Renato Sacco. Don Renato Sacco che è parroco di alcune parrocchie sul lago d'Orta, è stato coordinatore nazionale di Pax Christi fino all'anno scorso e adesso è nel Consiglio nazionale. E' un militante, anche se non è una parola magari bella abbinata alla pace, pacifista e obiettore rispetto alle spese militari. È stato nel 92 a Seraievo insieme a Don Tonino Bello e ricordiamo appunto che il movimento di Pax Christi è nato nel 54 su Desiderio di Paolo VI e come grandi esponenti ha avuto appunto Don Tonino Bello e il Monsignor Bettazzi. Io lascio la parola adesso a Padre Gianfranco Maronese che ci darà il suo benvenuto e poi a Don Renato. Buonasera prima di tutto a Renato, non Renato se vuoi, ma Renato è più amichevole. Ecco, e grazie di aver accettato questo invito. Ci tenevo tanto che ci fosse ecco questo anche possibilità di riflessione oltre le notizie. Siamo diventati tutti un po' specialisti di guerra, di attacchi, di cose e di lacrime. Non lo so, così c'ho l'impressione. Io vorrei non dimenticare ma cambiare un po' registro. Allora ecco, grazie perché ci fai riflettere. Certamente ci farai riflettere questa sera su queste guerre che sono sempre ingiuste e sempre angoscianti. Vorrei dirti due, tre frasi che mi hanno colpito. Non so se avete letto un'intervista a Edith Brook, una testimone della Shoah. La prima cosa che mi ha impressionato è questa, come uomo e come cristiano. Soprattutto dice, non capisco come si possa oggi usare armi e uccidere pensando di stare dalla parte di Dio. Mi ha messo in crisi e veramente ha ragione. Ma sentiremo poi anche una tua riflessione. E poi lei dice anche, la guerra è il falimento dell'uomo. Ci sono tante donne che scappano con i loro bambini. Le donne e i più deboli sono doppiamente vittime. Sempre vivono dalla parte, vivono la parte peggiore della guerra. I più deboli. Noi crediamo che la facciano i più grandi, non la fanno i più deboli, quelli che soffrono. Poi un'altra cosa che mi ha messo anche, mi ha fatto pensare molto. Mandare armi non ha senso, dice lei. È una contraddizione. E l'ultima domanda che risponde, che colpisce veramente al cuore. Dice, la pace ha un suo segreto. Non odiare mai nessuno. Se si vuole vivere, non si deve mai odiare. Sono parole di un testamento di vita e anche che fanno riflettere al giorno di oggi. Scusami di queste provocazioni, Don Renato, ma ti ascoltiamo volentieri e ti ringrazio già ora delle tue riflessioni. Grazie. A te la parola. Eccoci bene. Allora, cosa dobbiamo dire? Sono contento anch'io. Mi spiace di non essere lì di persona, ma oggi la tecnologia ci permette di fare tante altre cose e quindi ci sentiamo lo stesso. Ero stato lì, alcuni credo ci siamo visti qualche anno fa, non mi ricordo più, ma neanche tanto. Quindi sono contento. Non nascondo anche l'emozione, l'imbarazzo, sia per chi ci segue o su YouTube in diretto, o chi magari poi gli capiterà di ritrovarsi e vedere il video e quindi cercare di dire cose che abbiano un senso che abbiano un senso, ma non è una battuta, è proprio perché stiamo vivendo un tempo dove forse le cose più ovvie rischiano, è una cosa banale, ovvia, ma rischia di scatenare un putiferio. Allora io vorrei cercare di dire prima di tutto quello che sento, vi ringrazio, vi saluto. E poi, visto che il volantino dice pace in noi e nella società. Infatti chiedevo, anche cercando di declinare l'invito, dico, ma io cosa devo dire? Non sono mica un esperto. Qui siamo in gioco noi come persone. Si può essere uomini o donne di pace se non si è in pace. Cosa comunichi? Cioè non puoi comunicare pace se non la vivi, o meglio, se non cerchi di viverla. Poi la pace ci sarà quando vedremo il volto del Signore faccia a faccia. Infatti si dice riposa in pace. Nel frattempo, che il Signore ci lascia qui a tentare di non combinare troppi disastri sulla terra, come si fa a essere uomini o donne di pace? Ma dovremmo anche chiederci cosa intendiamo per pace. Perché sarebbe bello fare non un incontro, un seminario di una settimana per vedere cosa intendiamo. E magari già anche solo tra di noi avremmo idee diverse. C'era quello là che scriveva, non mi ricordo l'autore, ma era più vecchio di me, era un latino che diceva, hanno fatto un deserto e lo chiamano pace. Vogliamo quella pace lì? Oppure Don Tonino Bello, che è stato ricordato, era il presidente di Paschristi, è morto nel 92, e diceva, la pace è un cammino. Tante volte noi diciamo, sarebbe bello da leggere, ma ci porta via troppo tempo, tante volte diciamo, ah, adesso me ne sto in pace. La pace come non attività, più legata alle pantofole. Uno finisce una giornata, toglie le scarpe, se fa freddo accende il cammino, vuole guardare la tv, si mette le gambe incrociate sul tavolino e dice, un po' di pace, che è come dire, non faccio niente. Don Tonino diceva, la pace è un cammino, a volte è un cammino faticoso, ma per stare alla realtà, perché poi possiamo mica pensare che questo incontro avviene così, sulla luna. Siamo alla fine di marzo del 2022, in questo contesto, come dimenticare che molte volte abbiamo sentito usare e la parola guerra, no, non si può usare. E allora si dice, missione di pace. Anche qui dovremmo capire cosa vuol dire pace, ma per arrivare poi ad avere qualche spunto e spero anche di poterci confrontare. Io, lo ripeto, non sono un professore, non sono uno studioso. Dietro a me, come vedete, ci sono molte carte disordinate, così come sono disordinati un po' anche i miei pensieri, però condivisi con la passione per quello che sono capace. E allora dicevo, ma secondo me dobbiamo chiarirci questa parola pace e a me è sempre piaciuta questa definizione. La pace come armonia di relazioni, armonia di rapporti con se stessi, con gli altri, con il creato, la natura, gli animali, e per i credenti con Dio. Creare questa armonia. E dicevo, a cominciare da se stessi, che è un lavoro, è il lavoro di tutta la vita, trovare pace per evitare di usare gli altri per quello che servono. Pace nella relazione con gli altri, vado veloce, perché chi è l'altro per me? In questi giorni potremmo dire l'altro è un nemico. L'altro è uno da annientare. L'altro è quello che mi fa paura. Soprattutto se scappa da guerre e ha la pelle nera, l'altro che non è biondo, con gli occhi azzurri, mi fa paura. L'altro è, e lo vediamo nelle cronache di questi giorni, la persona con cui io ho scelto di fare un pezzo di strada. Da uomo, donna, marito, moglie, compagna, fidanzata. Quante volte sentiamo dire di uomini legati all'affetto della relazione. Che relazione è? Se poi in nome di questa relazione uccidi la donna che dici di amare. E allora forse la pace dovremmo ricercarla ricercarla in queste relazioni. Perché poi spesso si sente dire con lucidità no, ma io la amavo. E mica la volevo uccidere. Io l'amavo. Io l'amavo davvero. Allora bisogna anche capirci sulle parole. Perché è la stessa cosa, poi ne parliamo un po' più avanti, la potremmo adattare sulle relazioni non con la persona amata vicino, ma con le altre persone. Ma noi abbiamo fatto una missione di pace, non volevamo mica uccidere nessuno. Vi ricordate, se qualcuno che ci ascolta è giovanissimo, glielo spieghiamo. Se no, se sono tutti con i capelli al mio livello, si ricordano. Quando abbiamo bombardato l'Iraq, abbiamo inventato anche delle parole per definire i morti, non un'altra persona che muore. Chi è l'altro per me? No, abbiamo inventato una parola, effetti collaterali. Per cui in quell'operazione lì di missione di pace, gli effetti collaterali, non è che ti turbano la coscienza. Ti lasciano tranquillo, come tutte le medicine che prendiamo noi, qualche effetto collaterale lo provoca, ma il beneficio è così grande. E poi la relazione, dicevo, soprattutto uomo-donna. Lo dico perché ci potrebbe aiutare, magari se non lo dico lo mettiamo nel dibattito dopo. In questo scenario, non al 100%, ma in genere, in questo scenario, guerra Russia-Ucraina. E in tante altre guerre ci sono gli uomini, maschi, che secondo me non hanno risolto qualche problema psicologico interno, non hanno risolto un problema di relazione. Poi magari avranno anche una moglie, un'amica, una fidanzata, un'amante, ma se uno davvero fosse innamorato di qualcuno, non arriva a progettare queste cose. E allora c'è anche tutto l'altro aspetto, lo butto lì per evitare che magari scappa, ma una lettura un po' psicanalitica anche della guerra di chi, di tutti, anche lasciamo stare questa, andiamo su altre guerre, di chi dice ah beh, ma noi, l'orgoglio, non so adesso qui state registrando, non posso dire parole fuori luogo, però un po' come dire, detto in modo elegante, ma che rende l'idea, come dire, di chi riesce a fare la pipì più lontano, che fin quando restava il gioco da ragazzi, magari quando era nevicato, ci stava. Quando cominci a mettere mano ai missili, o mettere mano alle bombe e l'orgoglio ti fa dire io ho anche le bombe nucleari, e beh, qui c'è qualcosa che non va. E allora, secondo me, abbiamo bisogno di educarci alla pace, educarci in queste relazioni con noi stessi, con gli altri, la relazione uomo-donna è fondamentale, con la natura e qui dovremmo fare mille altri incontri, inostante a me, con il creato, la laudato sì di Papa Francesco, stavamo ragionando in questi mesi sul cambiamento, ridurre, l'inquinamento, la guerra cancella tutto, altro che la raccolta differenziata o stare attenti dove buttare la plastica. Torniamo indietro su tutto di 80 anni, non so quanto, e poi ovviamente per chi è credente anche la pace è questa armonia di relazione con Dio. Chi è Dio per me? Domenica abbiamo ascoltato quella parabola del Padre Misericordioso, che è una parabola che ci viene da dire il fratello maggiore ha tutte le ragioni. Io faccio il tifo per lui umanamente e solo lasciarsi cogliere da questo amore infinito del Padre illogico, non spiegabile, che riesci a capire il gesto del Padre Misericordioso, se no è il fratello maggiore che ha sempre fatto quello, eccetera, eccetera. Ecco, allora chi è Dio? È questo Padre Misericordioso o è il giudice quello disegnato col triangolo in qualche antico dipinto che ti guarda, Dio ti vede, eccetera, eccetera, o per dirla quello che viene citato dai vari attori, quando c'è una guerra c'è sempre chi usa Dio e uno lo cita di qui, uno lo tira di là, ce la prendiamo con i musulmani quando dicono all'Aqbar ma Dio con noi era scritto Gotmetunz era sul cinturone delle SS naziste e Dio tante volte lo tiriamo in ballo quando c'è la guerra lì tra l'altro sono tutti cristiani oggi vedevo anche la foto di un cappellano militare russo ci sarà anche quello ucraino se lo dico un po' ridendo per srammatizzare ma c'è poco da ridere se c'erano i musulmani potevamo dire beh ma questi musulmani non amano la pace usano Dio qui pregano tutti lo stesso Dio cristiano e allora quale Dio pregano? e ci verrebbe da dire ma Dio ascolta le preghiere di chi? che bandiera ha in mano Dio? quella russa quella ucraina quella americana quella italiana è il Dio è il Dio dei nostri e questo ci fa riflettere o è il Dio Padre misericordioso della fratelli e aggiungiamo sorelle tutti dobbiamo chiederci chi è Dio per me se no lo vediamo poi anche scritto chi ha l'occasione di avere in mano una moneta una banconota da un dollaro c'è scritto in God we trust io non so l'inglese ma è facile da capire dove sul dollaro c'è la nostra fede in chi crediamo ecco questo è importante perché ci aiuta poi a ragionare un momento insieme anche quando il Papa l'altro giorno definisce la guerra sacrilega è chiaro che se non risolviamo il problema con gli altri gli altri sono effetti collaterali sono nemici e non fratelli se non risolviamo il problema con Dio uso Dio per giustificare tutto notate che non sta a me dirlo magari Don Ciotti l'ha spiegato meglio tante volte ma lo sappiamo i mafiosi quelli veri hanno una grande religiosità e anche prima di fare qualche noi diciamo strage loro qualche cosa che era giusto fare a volte andavano in chiesa o mandavano le mogli a pregare in chiesa e anche nei bunker dove qualche boss è stato ritrovato c'era la statua della Madonna eccetera quindi se vogliamo capire la parola pace secondo me queste cose sono fondamentali altrimenti come ricordava all'inizio parliamo tanto e ci lasciamo prendere da questo clima di guerra e allora cosa dobbiamo dire in questa società il 24 febbraio ci siamo trovati con una guerra in Europa non la prima dopo 80 anni io non ero bravo di storia però ci vuole poco ricordare anche Sarajevo e tutta la storia dei Balcani l'assedio che è durato è iniziato i primi di aprile 92 siamo andati noi a dicembre poi è durato fino agli accordi di Dayton del 95 le bombe su Belgrado il Kosovo la divisione della Jugoslavia con tutte le varie cose progettate da qualcuno lo dico perché l'ho sentito nel telegiornale poco prima di iniziare da uno che si chiama Petreus che è un ex capo della CIA e uno dice no è quello che ha progettato la spartizione etnica della Jugoslavia ed è quello che era responsabile anche della guerra in Iraq quella che prevedeva la divisione tra kurdi sciiti e sunniti quindi divitit ed impera ecco quello era Petreus la testa di quella cosa lì allora questa guerra del 24 febbraio non è la prima guerra dopo 80 anni non è la prima guerra nel mondo perché la stessa Caritas con uno studio che fa ogni due anni mi sembra ci ricorda che in questo momento ci sono almeno 22 guerre nel mondo 22 combattute davvero come guerre alcune non conosciute quindi se uno comincia a pensare al Nagorno Karabakh l'Armenia o altre se uno dimentica la Siria l'Afghanistan chi ricorda più l'Afghanistan era solo il mese d'agosto abbiamo già dimenticato tutto ne riparliamo non voglio dilungarmi troppo su questo però Israele i territori occupati palestinesi eccetera eccetera arriviamo a 22 Myanmar ci ricorda qualcosa ecco questa guerra è chiaro che ci colpisce primo perché è vicina perché ci tocca da vicino perché oggi con la tecnologia vediamo come sono collegato io abbiamo visto collegato il presidente la vice presidente mi sembra i giornalisti abbiamo le immagini in diretta con tutto il problema che poi dovremmo magari ragionare o discutere sul ruolo dell'informazione però è una guerra che ci arriva in casa molto più di di altre e rischia di toccarci perché è vicina ma ci tocca anche e aggiungo io giustamente perché è una guerra dove si è sentito citare il discorso nucleare noi l'abbiamo sempre pensato così ma sì dai vabbè sono quelle cose da Hiroshima in poi cosa vuoi che centri di questa coda qua e invece e invece e allora questo ci riporta anche all'impegno che con Paschristi ma anche con tutta la società civile in Italia c'è una campagna per chiedere che l'Italia aderisca al trattato per la messa al bando delle armi nucleari perché se ci preoccupa che Putin l'ha accennato e che il presidente degli Stati Uniti che ha qualche chilometro di distanza per cui fare la guerra in casa d'altri è comodissimo e dice beh non escludiamo anche questa cosa qui poi dopo potremmo se qualcuno vuole discutere anche del nucleare ecco in Italia c'è una campagna perché c'è stato il premio Nobel assegnato ad ICAN che si è impegnata contro la presenza delle armi nucleari nel mondo oggi ce ne sono 13.000 di bombe nucleari quelle che noi chiamiamo bombe atomiche ma mi dicono che non è giusto usare la parola atomica è giusto usare ordini bombe nucleari molto più potenti di quelle di Hiroshima e quindi questa guerra e quelli che hanno il prurito sulle dita che dicono beh però non possiamo mica girare la faccia dall'altra parte allora cosa vuol dire entriamo in guerra allora vuol dire che scateniamo una guerra mondiale con il rischio reale direi di un coinvolgimento anche nucleare a quel punto entra in campo il fatto che è stato approvato un trattato entrato in vigore il 21 febbraio 22 febbraio del 2021 ma l'Italia non ha ancora aderito e in Italia lo ricordo velocemente ci sono bombe nucleari ce ne sono una quarantina sul nostro territorio vicino un po' più vicino a voi a Ghedi a Brescia vicino a Brescia e a Daviano vicino a Pordenone ieri sera credo a presa diretta è stato fatto vedere una simulazione di cosa potrebbe succedere reazione contro reazione dell'uso delle bombe nucleari beh l'Italia verrebbe spazzata via nei primi dieci minuti ma questo lo dicono gli scienziati non io che sono magari come dicevo vabbè il solito contro le armi sono i dati di fatto allora questa guerra ci coinvolge ci stupisce chi di noi non conosce qualche persona ucraina per ritornare al discorso della relazione lo abbiamo ben presente io ho avuto anch'io tanti anni fa in casa con il mio papà anziano una signora ucraina con cui sono ancora in contatto adesso e vivevamo questi mesi abbiamo pianto insieme nei giorni della guerra adesso ci parliamo un po' poco ci scambiamo i messaggi perché il carico di dolore di peso è grande quindi abbiamo anche questo coinvolgimento che vale credo per tutta l'Italia così come ci colpisce anche questa grande disponibilità di accoglienza che è sicuramente un lato positivo poi magari possiamo parlarne dopo credo però che così per capire la pace in società ci siamo accorti che in questo tempo i mezzi di informazione quasi tutti ci sono delle eccezioni lodevoli ma quelli più i due o tre più importanti telegiornali e anche quotidiani non facciamo nomi però la stampa la repubblica il corriere della sera sono molto allineati con l'elmetto il mondo politico oggi credo anche qualcuno che ci ascolta lo ha vissuto se uno dice ma no però se vogliamo davvero la pace per esempio perché mandare le armi all'Ucraina con tutti anche i generali che dicono ma ne hanno già tante di armi i generali che dicono se mandiamo armi all'Ucraina diventiamo anche noi un paese belligerante ecco se dici se dici queste cose rischi di essere quello che gira la faccia dall'altra parte che non ha a cuore la difesa delle persone rischia di essere quello che è amico di Putin rischia di quello che se ne frega della vita delle persone perché l'unico percorso l'unica strada è quella della guerra e infatti abbiamo visto secondo me me lo chiedo davvero anche come governo e Parlamento italiano è stato fatto di tutto dal punto di vista diplomatico no velocemente si è deciso di inviare armi e quelle sono partite subito tra l'altro parlando ma molti di voi credo che siano anche coinvolti parlando già qualche settimana fa poi con le prefetture i prefetti giustamente dicevano beh però nel caso dei profughi bisogna prima individuare poi appaltare a chi lo fa poi scaduto il bando dare le indicazioni quindi passerà un po' di tempo per le armi no detto fatto perché perché me lo chiedo io avrei qualche spiegazione ma possiamo poi trovarla insieme e quindi sembra che voler bene alle persone ucraine lo chiariamo per evitare che poi si debba rispiegare che ci sia in atto una guerra un'invasione che la responsabilità di Putin è innegabile questo lo dobbiamo dire che voler bene alle persone vittime sia quella della guerra io non credo mi sento in buona compagnia per esempio di Papa Francesco che ve lo ricordate ancora domenica scorsa dice passato più di un mese dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina eccetera e poi dice c'è bisogno di ripudiare la guerra luogo di morte dove i padri e le madri seppelliscono i figli dove gli uomini uccidono i loro fratelli senza averli nemmeno visti dove i potenti decidono e i poveri muoiono la guerra non devasta solo il presente ma anche l'avvenire di una società e sempre il Papa all'Angelus ho letto che dall'inizio dell'aggressione all'Ucraina un bambino su due è stato sfollato dal paese questo vuol dire distruggere il futuro provocare traumi drammatici nei più piccoli docenti tra di noi ecco la bestialità della guerra atto barbaro e sacrilego la guerra non può essere qualcosa di inevitabile non dobbiamo abituarci alla guerra e oggi parlare di pace diventa quasi un po' pericoloso parlare di disarmo ripudiare la guerra e dicevo dobbiamo ringraziare Papa Francesco che non perde occasione potremmo citare tutto da quando è andato al Sacrario di re di Puglia che ha denunciato i grandi interessi delle lobby delle armi e in tutte le altre occasioni quando era a Bari all'incontro nel Mediterraneo dice parlano di pace ma poi vendono armi eccetera e il Papa ancora giovedì scorso il 24 marzo che era anche l'anniversario del martirio di Monsignor Romero giornata dei missionari martiri Monsignor Romero ucciso all'altare il 24 marzo dell'80 in Salvador mentre celebrava la messa in quell'occasione lui dice ho sentito anche di alcuni paesi che vogliono aumentare al 2% il Pil ma questi sono matti questi sono pazzi ecco questo ci conforta ma direi ci chiede anche di non lasciare solo Papa Francesco perché di fronte a una guerra noi l'abbiamo detto anche con interventi del presidente di di Paschristi che era intervenuto il 3 marzo trattacciano le armi sembra che l'unica soluzione sia la guerra ma forse abbiamo dimenticato non abbiamo più anziani che ci raccontano la guerra e il clima che si crea da una parte sembra essere un clima da stadio o sei a favore di qui o sei a favore di là o tieni la Juve o tieni il Torino la pace se la vogliamo davvero costruire non si costruisce in questo modo dall'altra parte sembra che se usi la parola difendere ci sia solo la parola delle armi noi siamo in contatto in questo periodo anche con il movimento non violento che è presente in Ucraina ed è presente anche in Russia pensiamo a tutti gli obiettori che rischiano che vanno in galera ma anche ai giornalisti anche a chi manifesta noi dovremmo sostenere non i governi che si armano ma le persone la gente che vuole la pace in ogni situazione dell'Ucraina e della Russia perché stiamo parlando di questo ma anche in tante altre situazioni solo che sembra che si possa dire solo qualcosa sulla guerra altrimenti sei un traditore amico di Putin eccetera tacendo anche sulle responsabilità i generali io non me ne intendo molto ma i generali ci dicono che la Nato in questi ultimi anni aveva aumentato investimenti presenze basi armi al governo ucraino in quantità pazzesche e qualcuno ci ricorda anche che c'è stato nel 2014 il Donbass con migliaia di vittime e lì forse dobbiamo riconoscere le nostre colpe abbiamo taciuto abbiamo fatto finta di niente erano nostri alleati e quindi andava bene qualcuno ha detto ma sono problemi interni questo non giustifica la guerra ma noi se dobbiamo trovare una strada d'uscita non dobbiamo imboccare il senso unico della guerra perché andiamo a sbattere perché se mettiamo fuoco sull'incendio benzina sull'incendio qui da me vicino a me adesso è diventato buio ma fino a un'oretta fa viaggiavano i canader c'erano degli incendi e gli incendi hanno bisogno di una tecnica per spegnerla tra l'altro colgo l'occasione per ricordare che l'Italia mi sembra che ha 16 canader 16 per tutta l'Italia e invece ha previsto di comprare 91 F-35 un F-35 che è un caccia bombardiere da attacco ultima generazione che può trasportare anche armi nucleari costa 150 milioni di euro l'uno un canader costa più o meno un quarto diciamo che con un F-35 potremmo recuperare tre o quattro canader per cui l'incendio qui vicino a me invece di vedere un canader solo ce ne potevano essere cinque o sei c'è un lago vicino a me ma i canader costano certo perché invece le armi non costano e allora la decisione in questo contesto con la guerra che abbiamo davanti e negli occhi con il rischio di dimenticare cos'è stata la guerra per chi l'ha vissuta oggi credo che davvero non sia una scelta di pace quella di decidere di aumentare le spese militari l'Italia già a oggi spende circa 25 26 miliardi di euro in un anno nel mondo se ne spendono 2000 miliardi all'anno che tradotto in giorni per l'Italia sono 68 milioni di euro al giorno ognuno di noi può rendersi conto quante cose per la difesa della vita delle persone si potrebbero fare con 68 milioni al giorno domani mattina ne mettete gli altri 68 per la scuola per gli anziani per gli ospedali per l'ambiente per tutto quello che volete ci rendiamo conto io non so da voi però il rischio che quando telefoni per prenotare un esame ti dicono beh a settembre nel mio caso ad Alessandria che sono quasi due ore di macchina da casa mia con tutti quei soldi potremmo mettere la TAC la risonanza magnetica in ogni comune ogni ambulatorio del medico ogni farmacia come vai a fare adesso il tampone vai anche a fare la TAC la mammografia l'ecografia o la scintigrafia quanti soldi si spendono per la morte e questo ci dobbiamo chiedere ci aiuta a cercare pace o è chiaro che se io investo in quella direzione lì poi le armi le dovrò usare e creerò morte e qualcuno dice beh ma la guerra è anche un modo per muovere l'economia per rilanciare l'economia certo i guadagni di qualcuno poi ci sono gli effetti collaterali come dicevo prima allora credo che questa sera poi cerco di non allungarmi più di tanto il il parlare di pace vuol dire prendere coscienza che la pace è il bene supremo e che camminare sulla strada della guerra è sempre una sconfitta dell'umanità un'avventura senza ritorno ci siamo dimenticati queste cose e oggi ci sembra di la frase più facile da sentire questa io sono contro la guerra però è un po' come la frase di chi dice io non sono razzista però ridendo quello là diceva non è colpa mia se quello è nero io non sono razzista però è lui che è nero oggi rischiamo lo dico un po' ridendo su una tragedia di ragionare così e quindi io sono contro ma però ecco il rendersi conto che abbiamo tagliato miliardi sulla sanità e abbiamo investito sugli armamenti vuol dire che andremo in quella direzione lì qualcuno dice ah ma non è una decisione nostra ce lo chiede la Nato e chi comanda in Italia? il popolo sovrano o la Nato? non l'ONU stiamo bene attenti l'ONU è l'organizzazione delle Nazioni Unite la Nato è un'associazione militare tesa all'espansione e infatti giustamente noi come paschilisti continuiamo a dire quando scioglieranno la Nato sarà troppo tardi lo ricorda il presidente attuale che è il vescovo di Gravina Altamura Acquaviva delle Fonti Monsignor Ricchiuti lo ricordava anche alla nostra assemblea il 98enne Monsignor Luigi Bettazzi dicendo beh la Nato che era contro il patto di Varsavia non c'è più il patto di Varsavia perché ci deve essere ancora la Nato? Ci dovrebbe essere allora una forza internazionale delle Nazioni Unite lì in quel caso bisognava mandare delle forze di interposizioni ma non di parte del diciamo super partes come quando succede così che succede un problema in paese c'è un furto un litigio un omicidio qualcosa uno quello fa chiama i carabinieri non chiama l'amico armato dici andiamo a vendicarlo vengo io ti dico c'è riconosciuto nella cultura nelle relazioni personali che uno non si fa giustizia da solo e chiama i carabinieri oggi a livello la polizia oggi a livello internazionale non c'è questo riferimento e quindi lì bisognava prevenire questo conflitto conflitto invece abbiamo investito abbiamo creato le condizioni assistiamo a un'invasione assistiamo a una guerra e l'unica scelta sembra essere quella di mandare nuove armi noi e il mondo intero con il rischio di non capire più il limite fino a quando non siamo coinvolti e se siamo coinvolti davvero ci preoccupa ma dovremmo anche dirlo per onestà non solo mandare le armi come dire armiamoci e partite le diamo a voi combattete voi l'altra cosa è quali sono le cose che stanno succedendo anche in questi giorni tra due giorni non ho detto che noi spendiamo 68 milioni al giorno ma l'altro giorno in questi giorni il senato e l'altro giorno la camera hanno approvato o approveranno un ordine del giorno per dire alziamo l'impegno di spesa militare a 104 milioni di euro al giorno qualcuno dice sì ma non domani vabbè ma non mi interessa tanto vuol dire che saranno soldi tolti alla sanità alla scuola alle pensioni all'assistenza a chi ha bisogno a tutta un'altra situazione a una rete è importante oggi una rete di solidarietà ieri sera sempre a presa diretta mi dicevano sentivo dei numeri altissimi sui minori con tutta la difficoltà poi c'è stato il covid sul bisogno di cura di minori con gesti di autolesionismo che avrebbero bisogno ma non ci sono le possibilità allora non dovremmo creare le condizioni perché i nostri ragazzi crescano davvero più sereni in questa società no creiamo le condizioni per inventare nuove armi adesso si parla delle bombe al fosforo bianco utilizzate che io ho visto già usare a Fallujah in Iraq la prima ad accorgersi a denunciarlo è stata proprio l'amica Giuliana Sgrena che era inviata del manifesto e lei che ha denunciato l'uso del fosforo bianco che arriva a carbonizzare le persone dove c'è acqua le cellule vive per intenderci e quindi lo studio l'intelligenza della persona per studiare come uccidere come distruggere l'altro le bombe con riconoscimento facciale tutta la tecnologia che io non riesco neanche a immaginare forse neanche voi quanta intelligenza ma ho qualche dubbio che sia intelligenza viene investita per distruggere e allora tra chi dice no c'è anche Paschristi la comunità Giovanni XXIII la Cittadella l'Arci le mille associazioni che hanno deciso il primo aprile nella notte partirà un convoglio di una oltre 50 pulmini con su due o tre persone su ogni pulmino che andranno in Polonia e poi a Leopoli per incontrare anche la società civile il mondo religioso le autorità per far vedere che c'è un'Europa che non è quella delle armi ma è quella delle persone porteranno ovviamente medicine perché lì ne hanno bisogno e probabilmente porteranno a casa persone anche lì che hanno bisogno di essere curate ma è un'iniziativa contro la guerra per dire qualcuno dice come era stata fatta quella del 92 a Sarajevo con Don Tonino poi le condizioni sono diverse bisognerà pensare poi per il futuro ma mettere in atto di tutto io non andrò a questa iniziativa quindi ringrazio le amiche e gli amici che ci vanno io non riesco a partecipare mettendo anche un po' a rischio la propria vita in modo da non restare come qualcuno dice solo sul divano a fare il tifo per chi sei sei d'accordo non sei d'accordo discussioni eccetera eccetera e finisco dicendo c'è un altro appuntamento che è sabato 2 aprile al pomeriggio saremo a Genova perché lì ci sono dei lavoratori portuali che da qualche anno si rifiutano di caricare o scaricare armi sulle navi che passano molte sono dell'Arabia Saudita a volte ci sono anche le bombe italiane costruite in Sardegna e l'Arabia Saudita bombarda lo Yemen onestamente dobbiamo dire lo Yemen non è mai interessato nessuno ma le bombe sganciate su lo Yemen provocano lo stesso effetto di quelle sganciate su Kiev o sulle altre città eh ma adesso colpiscono gli ospedali e già perché nelle altre guerre cosa colpiscono colpiscono i bambini colpiscono i luoghi dove si ammassano i rifugiati e nelle altre guerre cosa succede l'Arabia Saudita passava passa anche da Genova questi si sono rifiutati il Papa li ha indicati dicendo questi sono bravi loro stanno rischiando anche penalmente delle denunce direi pesanti perché è un rifiuto grande allora sabato pomeriggio credo che sarà trasmesso anche sul canale Facebook di tante associazioni dico Paschristi perché è la mia ma associazioni locali di Genova e nazionali e ci sarà il Vescovo di Savona dove abbiamo fatto la marcia il 31 dicembre a Capodanno con tutti i limiti del Covid il Vescovo di Savona che si chiama Don Gero con il Vescovo di Genova Don Marco ci sarà il messaggio anche del Presidente di Paschristi il Vescovo Ricchiuti con tante associazioni con i lavoratori del porto per dire la guerra parte anche da Genova in ogni porto ci sono coinvolgimenti noi abbiamo visto che anche a Pisa i lavoratori del porto hanno rifiutato di caricare le navi che andavano in Ucraina anche perché dicevano c'era scritto aiuti umanitari e poi sono armi io non voglio collaborare con la guerra allora credo che e finisco per essere uomini e donne di pace dobbiamo davvero mettere la pace al primo posto la pace non è la codardia e la guerra non è quella da uomini veri come dicevo la pace è il valore più grande siamo in quaresima forse dobbiamo convertirci alla pace e come diceva Don Tonino Bello se San Paolo dice Cristo è la nostra pace allora la pace per noi è un prodotto doc made in cielo denominazione d'origine controllata non è un prodotto così da spacca prezzi perché Cristo è la nostra pace allora forse dobbiamo davvero pregare e convertirci a un cuore di pace a una mente di pace a relazione di pace e anche a sognare un mondo speriamo sia possibile ancora lo vogliamo sperare davvero un mondo che sia davvero basato sulla pace e non sulla guerra perché la guerra è proprio l'esatta cancellazione di ogni valore di ogni persona e non vorremmo arrivare a dire hanno fatto un deserto e lo chiamano pace ecco allora io credo che sia giusto che finisca qui così abbiamo qualche minuto anche per confrontarci se ci sono domande considerazioni questo lo lascio a voi grazie grazie Renato grazie mille dopo le tue riflessioni è un po' sedimentate ecco però insomma adesso diamo lo spazio per chi vuole fare qualche domanda sia delle persone qui in sala che collegati che sono collegati un po' da tutta Italia o degli amici che ci stanno seguendo su YouTube dalla Sicilia e mi approfitto per salutare la mia collega Luisa che lei si trova al confine fra la Slovacchia con gli assistenti sociali per la protezione civile in uno degli hub di accoglienza dei profughi in particolare è qui in Zoom con noi stasera e in particolare quelli fragili e disabili ecco quindi Luisa ti pensiamo e siamo con te ecco io devo dirti che personalmente ti ringrazio perché hai nominato anche presa diretta ieri sera ho visto anch'io quella quel servizio che parlava dei giovani e proprio sono rimasta scioccata dal fatto che in Italia non esistono neanche 100 posti o meno di 100 posti letto per la neuropsichiatria infantile e come invece i neuropsichiatri dicevano come sono aumentati i casi durante il periodo di covid autolesionismo e problemi di disturbi alimentari e si è abbassata l'età però non si sta investendo in questo e questo ci interroga fortemente e la cosa che volevo un po' condividere con te quello che mi ha colpito di questa guerra che non è l'unica che c'è adesso e non è ce ne sono altre altrettanto e forse più tragiche e naturalmente da più a lungo è come mi ha interrogato personalmente anche tante persone intorno a me perché nelle altre guerre non mi sono mai domandata ma se io fossi lì magari sarei una di quelle che sono scesa in piazza a fare le monotos è stata capace di essere pacifista là nelle altre guerre questa cosa non mi è successa dentro di me proprio mi sono sentita spaccata poi sono convinta che invece non appartengo a sono pacifista ma non vanno inviate le armi per me non va alzata la spesa però dentro mi è successo qualcosa che nelle altre guerre non mi è successo e ho visto tanti anche teologi molto famosi in questo periodo che si sono interrogati sul trovare il perché è giusta la guerra di difesa anche oggi ho visto una riflessione lunghissima scomodando Tommaso Moro scomodando Thich Nhat Hanh dove tu portando appunto giustificazione al fatto che la guerra di difesa è giusta ecco io non so cosa dire perché tu parlavi di usare l'intelligenza per trovare altri metodi altri argomenti e qua l'intelligenza la sapienza la cultura di queste persone viene messa a servizio di giustificare la guerra e poi mi domando dov'è la diplomazia no non so preferisci che rispondo subito sentiamo qualche altra domanda dimmi tu preferisci aspettiamo se c'è qualcun altro dai se no parlo solo io oppure se no in attesa che qualcun altro si faccia vivo poi non so gestisci tu quando vuoi mi interrompi perché magari qualcuno prenota domande o meno me lo dici vai pure Renato no allora condivido con te tutto quello che hai detto che vale anche per me io ho avuto modo di fare una manifestazione in piazza qui a Domodossola vicino dove abito io e c'erano anche qualche uomo ma tante donne ucraine e io loro ho detto ero lì in piazza ho detto voi avete il diritto di pensare tutto quello che volete io e io non ho diritto di dire niente io adesso però mi rivolgo agli italiani non a voi siamo in piazza come italiani vicino a voi però e quindi il diritto di difendersi io non mi metto neanche a discuterlo io non non riesco a immaginarmi anche se poi se riusciamo magari ci ragioniamo un po' nella mia esperienza anche di paschristi in alcuni luoghi dove c'è la guerra ci sono stato Sarajevo l'assedio è durato quattro anni freddo acqua luce senza vetri granate il giorno prima del nostro arrivo a Sarajevo ecco non c'erano le grandi bombe Sarajevo era accerchiata tutti magari hanno in mente un po' la geografia le montagne intorno la città all'interno e il giorno prima ci hanno detto del primo del nostro arrivo erano cadute 3000 granate in un giorno i cecchini sulle montagne per cui dovevi ci ricordiamo tutti le scene di chi doveva scappare per strada la strage del pane eccetera eccetera e anche a noi lo dobbiamo dire lo ricordavo anche Don Tonino qualcuno diceva ma cosa siete venuti ci avete portato le armi e quindi ragionare in un modo diverso dalla guerra è faticoso per tutti io sono stato in in Palestina da quanti anni è che c'è Israele che occupa infatti la Palestina non esiste esistono i palestinesi ma uno non può dire che va in Palestina nel senso che non esiste lo stato di Palestina c'è anche una ris ci sono tante risoluzioni dell'ONU contro Israele e di Kabul ci ricordiamo le scene lì cosa abbiamo fatto abbiamo bombardato abbiamo in quel caso gli aggressori eravamo noi poi in 15 giorni abbiamo deciso di venire via e l'Iraq dove io sono molto legato per tanta amicizia io ci sono stato buono 15-16 volte conosco tante persone il patriarca che si chiama Luis Sacco come me e quindi però lui è iracheno e lo ritengo davvero un caro amico fratello e i kurdi allora qualcuno dice provocatoriamente perché dobbiamo dare le armi solo agli ucraini io non condivido questo ma ragionando in modo militaresco perché non le diamo ai kurdi perché non le diamo ai palestinesi ecco allora ma il problema non è quello scusate il problema è di come noi possiamo essere portatori di pace e cercare di porre fine alla guerra qual è il nostro ruolo quello di alimentare quello di alimentare o trovare altre strade l'abbiamo alimentato fino adesso insomma non dimentichiamo che noi abbiamo venduto le armi anche a Putin che tra l'altro non si poteva perché c'era non so usare la parola esatta non vorrei sbagliare un embarco un impedimento però noi abbiamo venduto tipo 35 milioni di euro in blindati che si chiamano lince e li abbiamo visti a Kiev quindi noi adesso stiamo armando il governo ucraino che si deve difendere da tante altre bombe ma anche dai lince che abbiamo venduto noi e quindi io a quelle donne ucraine ho chiesto scusa perché quel lince ci vedeva anche noi coinvolti certo sul sul riscoprire oggi la teoria o la teologia della guerra giusta non la condivido ovviamente anche se la fanno persone molto più brave di me perché ci vuole un po' di buonsenso e tra l'altro adesso non ce l'ho qui ma magari lo posso andare a prendere l'enciclica fratelli tutti dice in questo tempo non siamo la prima guerra mondiale non siamo neanche la seconda guerra mondiale con il tipo di armamenti che ci sono con il rischio nucleare con queste cose qua non ci sono le condizioni della guerra giusta ma anche e quindi dice la guerra è sempre disumana sacrilega eccetera eccetera ma anche secondo il catechismo che qualcuno dice beh ma il catechismo ritiene l'aggressore eccetera eccetera ma sono così tante le condizioni che vengono poste e sono da verificare insieme non ne basta una ci devono essere tutte queste per cui oggi non ci sono le condizioni per dire è una guerra giusta io credo che non abbiamo fatto il possibile non stiamo neanche facendo il possibile i nostri amici partono e vanno io no posso fare posso essere tranquillo ho fatto davvero tutto ci ricordiamo e finisco con il covid ci ha cambiato la vita siamo rimasti in casa non si poteva neanche fare la pipì al cane non si poteva andare a lavorare non si andava a scuola non si andava neanche a messa io non lo so e lo dico così e per la guerra dovremmo forse fermi tutti ragioniamoci su si può uscire meglio non c'è non ci sono più le indicazioni del covid usciamo però troviamoci e parliamo di questo invece che andare a lavorare invece che andare a scuola diciamo cosa possiamo fare per la guerra chi è più esperto chi l'ha studiato la non violenza chi è studiamo dov'è la diplomazia dov'è la volontà mi sembra e qui magari qualcuno lo riterrà una cattiveria che c'è qualcuno che soffia sul fuoco che come dire no no non ci sono spirali come dire gli prudono le dita perché non gli parvero sembra di essere sullo stadio quando c'è un rigore che cominci a dire ecco di qua e di là non gli sembra vero di arrivare a qualche scazzottamento ecco forse abbiamo dimenticato che cos'è la guerra e quando il Papa lo dico perché credo non si sappia ma a me l'aveva detto l'allora Presidente della Repubblica Scalfaro che è un mio paesano e di Novara il 24 marzo quando il Papa ha detto sulle spese militari contro la guerra eccetera il 24 marzo credo del 47 è stato approvato l'articolo 11 della Costituzione è un giorno particolare il 24 marzo quindi ricordiamoci anche questo chi ha scritto quell'articolo aveva ancora negli occhi nel naso l'odore della guerra e quando uno sa cos'è la guerra scrive una parola indiscutibile che è fuori dal linguaggio giuridico ripudia la guerra punto e basta se cominciamo ad aprire la porta poi rischia di spalancarsi e o cancelliamo noi la guerra dall'umanità oppure sarà la guerra a cancellare proprio l'umanità intera grazie Renato e ti leggo una riflessione che ci hanno inviato in chat Maria e Antonio che ci dicono mi pare evidente è la stretta correlazione tra un mondo che si orienta alla guerra e il sistema finanziario capitalista che è stato utilizzato per mettere in ginocchio la Russia si deve manifestare anche per questo noi inconsapevolmente viviamo sopra i miliardi di miliardi di derivati che se atterrassero solo in parte sul nostro quotidiano azzererebbero l'economia di parte del pianeta condivido c'è una domanda qui in sala adesso sono sconcertato che la chiesa autodossa russa sia servita al potere di potere questo è uno scandalo per la chiesa in generale cristiana soprattutto che il patriarca come si chiama si ha servito proprio prono al potere e questo mi ha fatto molto molto dispiacere naturalmente ecco solo questo che non abbiamo citato stasera ma bisogna essere anche aperti a dire anche i nostri difetti i difetti dei cristiani neanche e di chi ci dirise come suggerire io è stato sconcertato solo questo si condivido brevemente me l'avevano già chiesto una volta a un programma tv siamo noi di tv 2000 e ho detto ma se vogliamo la pace non sta a me alimentare polemiche condivido quello che ha detto l'amico prima il papa secondo me dimostrando tutta la sua fatica e pazienza ha avuto il colloquio anche con lui è chiaro che noi siamo di fronte io non sono un esperto di men che meno di chiese ortodosse però è storico il legame tra Putin e il patriarca Cirillo e Kirill e anche il fatto che le chiese ortodosse sono autocefale quindi sono tendenzialmente nazionaliste eccetera eccetera però non vorrei dirlo i migliori siamo noi perché siamo i cattolici siamo belli siamo bravi viva il papa e viva i parroci cioè me no non è un problema di fare una guerra di religione è sicuramente faticoso ed è bello allora guardiamo il lato positivo se sarà possibile che la delegazione che andrà in questi giorni incontrerà anche lì a Leopoli perché un conto è discutere noi dietro un monitor come abbiamo fatto a Sarajevo quando abbiamo incontrato i leader religiosi musulmano cattolico ortodosso ed ebreo e lì come erano tutti fino alla testa delusi arrabbiati addolorati siamo qui a condividere e quindi infatti una delle prospettive se sarà possibile di questa marcia che ora va a Leopoli è di pensare come dove quando non si sa però di andare anche a Mosca per per riconvertire una relazione e giustamente chi ha parlato dice diciamoci anche le nostre perché qui non è tanto il puntare il dito se no facciamo una guerra di religione e riconoscere che a volte usiamo Dio quello sì dimentichiamo che il Dio è il padre è la luce è amore e a volte lo usiamo non tentare il Signore Dio tuo ecco questo sì e questo sicuramente tocca il ruolo in questa guerra anche religioso visto che sono due popoli una terra molto religiosa sia gli ucraini che i russi e ci hanno tramandato anche grandi testimonianze opere d'arte opere letterarie non sta a mai ricordarlo quindi siamo di fronte a un popolo dove l'aspetto religioso è importante e quindi anche i leader tutti hanno una responsabilità in più ecco preghiamo davvero visto che parliamo di leader religiosi preghiamo davvero lo Spirito Santo grazie Renato vediamo se c'è qualche altra domanda salutiamo anche Don Gianni Marmorini che è un amico di Sala Dialogo appunto della Fraternità di Pappiano vicino ad Arezzo che stasera è con noi scusa se intervengo ma questa guerra che così l'abbiamo un po' almeno attraverso le notizie in casa anche oggi ho incontrato sono riuscito a parlare a Riva per caso mentre parcheggiavo la macchina ho parlato con una coppia che proviene dalla Repubblica Moldova che abitava anche in Ucraina ecco in sintesi volevo dire questo questa guerra ci ha resi più sensibili qui c'è una cosa profonda secondo me o costruiamo dentro di noi e accanto a noi una nuova cultura di pace un cammino perché finora sia la Chiesa le discussioni della guerra di difesa ma si parla sempre di guerra si parla di uccisione si parla di morte si parla di distruzione si parla di anti-umanità è tutto un cammino da fare io mi ricordo nel passato quando si ve le dicevano ancora queste armate le lotte che mi ricordo quando ero ancora più giovane si parlava e diceva noi non dobbiamo perdere il posto di lavoro anche se siamo in una fabbrica di armi sono tutte cose assurde del passato che è da rivangare da far rifiorire in un modo diverso qui manca e lo dico come con sincerità come uomo e come cristiano anche come prende se vuoi una cultura all'interno della teologia all'interno della cristianità all'interno della politica di vera pace secondo me guarda lei espresso molto bene questa sera ti ringrazio di questo però io vedo se non si fa questo siamo destinati a vivere nella paura dell'atomica di tutta questa guerra nucleare ma destinati a vivere in modo non umano aver paura dell'altro c'è un bellissimo articolo che perché Caino non è arrivato al dialogo con il suo fratello è partito subito e perché questa filosofia rimane ancora oggi ancora oggi la filosofia di Caino io ho ragione e uccido scusami un po' queste riflessioni ma credo che sei un po' solo anche sulla tua visione la cultura di pace deve essere rinnovata mangiata sentita dentro perché altrimenti il mondo il mondo è assurdamente anche l'economia come diceva l'amico Antonio di prima hanno ragione hanno ragione l'uomo deve trovare maggiore umanità e anche maggiore pazza grazie credo davvero che sia così ti ringrazio condivido ma io sai nel passato quante volte mi sono trovato a dire a sentire c'era la guerra in Iraq allora sei amico di Saddam ma cosa bisogna fare adesso ci ricordiamo quando Saddam quando il segretario di stato americano all'ONU ha detto qui abbiamo la botticina con l'antracce Saddam è in grado di Saddam era un dittatore non era amico mio e mi sono beccato anche l'amico di Saddam eh però bisogna fare adesso 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 poi Bush e Blair hanno detto ah sì scudate ci siamo sbagliati così come quando uno pesta il piede uno sul treno dice mi scusi eh gentili eh su questo non bisogna mettere in dubbio gentilezza e correttezza però il problema è adesso quando si spengono i riflettori e dice no ma bisogna ragionare bisogna investire sulla pace bisogna studiare la pace bisogna favorire un'economia di pace una teologia di pace quando i riflettori si spengono come è successo con l'Afghanistan e chi si ricorda più che bisogna investire sulla pace non sulla guerra in Afghanistan spendavamo come Italia due milioni di euro al giorno solo per la presenza militare e allora uno dice no ma certo bisogna costruire gli ospedali eccetera eccetera abbiamo avuto il covid e mancavano le bombole d'ossigeno certo bisogna favorire eccetera eccetera tu ricordavi Barbara che ieri dicevano non ci sono i posti per curare i ragazzi che hanno bisogno ma allora neanche col covid non abbiamo imparato niente mancavano le mascherine mancavano i caschi l'unica cosa che non manca sono le bombe vuol dire è allora che l'economia risponde a una logica di interessi non di umanità e quando c'è la guerra si coprono gli interessi con dei valori di umanità che diventano l'orgoglio nazionale ma poi in realtà io l'altro giorno ho detto a un senatore con cui ho fatto un dibattito lui non l'ha presa bene ma io l'ho detta un po' come battuta perché ovviamente non ne ho le prove ma perché questo mondo politico è così allineato poi nelle scelte e anche il mondo dell'informazione è sul libro paga di qualche grande ditta di armi o sul libro paga della Nato io dico no perché non ne ho le prove e voglio sperare di no certo è che la lobby delle armi è molto più forte che non la lobby della scuola che non la lobby dei genitori che hanno dei minori in difficoltà eh ma sì ma adesso c'è Putin eccetera eccetera ma perché allora gli abbiamo venduto le armi e perché magari gli continuiamo a comprare il gas e qualcuno dice beh però gli Stati Uniti qualcuno con un po' di cattiveria dice quando fare la guerra in Europa vendono nuove armi si rifilano anche il gas e gli dobbiamo anche dire grazie è una logica pazzesca quello che io dicevo all'inizio che poi anche prima venire ricordato dobbiamo forse riscoprire il valore della pace come valore in sé non come negazione della guerra ma la guerra come negazione della pace e quindi la dobbiamo estromettere e quindi il pensare di dire primavera di stupirci davanti a un pesco che germoglia alle azalee che fioriscono e pensare che il Signore ci ha messo qui per questo bianchi rossi verdi gialli pelati biondi belli brutti grassi e magri scoprire Don Tonino Bello amava dire la pace è la convivialità delle differenze forse dobbiamo cominciare a reinnamorarci di questo grazie Renato ti leggo quello che ci scrive Luisa appunto al confine Slovacchia e Ucraina innanzitutto vorrei dire grazie per queste parole perché seminano vita e ne abbiamo tanto bisogno e non è scontato è sufficiente dirlo una sola volta ma continuare a praticarlo e direi educare alla pace sin da quando nasciamo come siamo fatti penso a scuola in famiglia al lavoro quanto tempo ha bisogno la pace per essere costruita e qual è invece il tempo della guerra quali sono i tempi della diplomazia delle relazioni internazionali dei ponti per corridoi umanitari con quali atteggiamenti e comportamenti possiamo stare in questa condizione incerta e sospesa oggi Luisa ci fa appunto da là queste domande grazie Luisa e poi leggo anche una riflessione di Roberto e Felicina che ci dicono intanto grazie per questa serata speriamo almeno che cresca la consapevolezza che la guerra è una follia a cominciare dai media e dai politici anche se non nutro molta fiducia in queste categorie sì c'è anche tutto un linguaggio della pace un linguaggio della guerra della propaganda a volte sottile lo ricordavi tu all'inizio gli effetti collaterali e anche adesso in particolar modo insomma lo si vede qui là mi verrebbe da dire che da sempre il linguaggio da quando dicevo l'abbiamo chiamato missione di pace ma per essere sintetico col covid abbiamo detto che i medici erano in trincea e siamo in guerra siamo in guerra no mi fa piacere anche che qualcun altro più saggio di me l'abbia detto perché questo porta su una brutta i medici sono in sala operatoria i medici sono in corsia per salvare le vite non sono in guerra parlando del covid non sono in trincea non è una guerra abbiamo bisogno di cure e non di guerra ed essendo in una situazione di cura abbiamo bisogno di medicine di ambulanze di posti letto di chip up e di tutto quello che può essere utile ma sarà anche perché poi il responsabile aveva un po' di medaglie sul petto ed era pure un generale ci ha fatto masticare piano piano come quando nevica penso che io abito in montagna ma anche da voi qualche volta nevica il primo giorno che nevica tutti quelli che incontri dici orco cane mai visto nevicato e io e la macchina sono scivolato e ho spalato dopo due tre giorni che c'è la neve mica stai lì tutte le volte a dire la neve ci prendi atto convivi come quando c'era la nebbia a Novara dove studiavo io mica tutti i giorni imprecavi contro la nebbia durava mesi e così anche la guerra ha così anche il linguaggio per cui uno dice Don Renato com'è andata stasera una bomba oppure Don Renato ha sparato a zero no io non ho sparato a zero e non sono una bomba se qualcuno apprezza il mio intervento dice bravo è stato bello se qualcuno non apprezza dice è stato uno schifo ma non usiamo la parola bomba una cannonata la riunione di stasera tutto un linguaggio che ci rende familiare se pensiamo all'abbigliamento sempre più mimetico se pensiamo alle fiere dove adesso poi c'è stato il covid ma qui anche vicino a me a Novara vedevo c'erano degli aerei veri con i carri armati veri dove magari il pomeriggio della prima comunione a maggio c'era la fiera dopo aver fatto la prima comunione dopo il pranzo i bambini venivano portati a sedersi su un aeroplano vero perché era un gioco poi ci siamo accorti adesso che cos'è la guerra ma come dicevo prima non è che le bombe nostre sono sponsorizzate dalla Baci Perugina o dai Ferrero Rocher e io sono goloso li apprezzo molto tutte le bombe provocano quella roba lì il fosforo bianco l'uranio impoverito le bombe a grappolo le mine anti-uomo allora il linguaggio anche nei mass media credo che sia grave che qualche giornale abbia messo abbia usato delle foto che non erano riferite a ciò per cui si volevano usare ma perché c'è bisogno del sensazionalismo è chiaro che la guerra fa vendere se tu sei sul pezzo se hai la persona colpita direttamente sul marciapiede se l'inviato è lì sei sul pezzo se posso dire una cosa poi mi dici quando deve finire non cattiva ma vera senza fare nomi lo dico qui e mi piacerebbe fare un dibattito con lei l'attuale direttrice del TG1 è arrivata in Iraq un paese a me caro l'ho già detto il 2003 aprile 2003 quando gli americani dal Kuwait o Kuwait non mi ricordo mai la differenza tra lo stato e il giubbino per la pioggia arrivano attraversando tutto l'Iraq a Baghdad con i carri armati io ho avuto modo di parlare con alcuni soldati americani che erano arrivati a Baghdad ma il 9 aprile se non ricordo male e sarebbe interessante tra qualche giorno vedere se ce lo ricordiamo l'inviata italiana era lì e mi ricordo i suoi servizi dicevano siamo qui abbiamo avuto un problema ci dobbiamo fermare dobbiamo risalire subito noi noi chi? noi Rai noi giornalisti noi carri armati americani quello si chiama informazione embedded che ti fa entrare poi quando hanno rapito la Giuliana Sgrena è stato detto se la va a cercare quello è giornalismo vero sul campo il giornalismo delle veline ministeriali o a bordo di un carri armato di una parte o dell'altra vuol dire essere arruolati quindi anche l'informazione è arruolata e a me sembra che oggi ci sia un'informazione con l'elmetto non solo perché i servizi li vediamo qualche giornalista ha fatto dei numeri lasciamo stare ma perché c'è la frenesia del dire c'è questa cosa qua credo che sia un problema di di linguaggio di cultura di ragionamento e mio nonno io ho 66 anni mio nonno è morto tanti anni fa ero piccolino e con me mio fratello eravamo poveri eravamo in cascina non avevamo tanto lusso però ovviamente i nonni quando sgridano dicevano ci vorrebbe un po' di guerra che così smetti di fare capricci io le avrò fatti mio fratello no perché è più bravo ma io avrò fatto anche qualche capriccio però mio nonno diceva la guerra ti fa capire allora noi non vogliamo augurare la guerra a nessuno però vogliamo non dimenticare che cos'è la guerra altrimenti la mettiamo un po' così come se fosse edulcorata e ne dimentichiamo la tragedia il Papa interpreta bene questo dolore questa tragedia ma deve essere solo lui credo che dobbiamo non lasciarlo solo grazie grazie Renato ecco ti ringraziamo tutti qua in sala presenti e se non c'è qualche altra domanda da chi è a casa direi che andiamo verso la conclusione e ti ringraziamo tanto per esserci essere stato con noi questa sera e aver risposto subito alla nostra richiesta ecco prima prima dei saluti avevo promesso di dire ma da tenerezza esatto perché forse molti conoscono un grande professore psichiatra che si chiama Eugenio Borgna vi consiglio i suoi libri è proprio un grande e ieri sulla stampa Borgna abita qui vicino a me a mezz'ora da casa mia tra l'altro ricordava che la sua famiglia era sfollata durante la guerra proprio qui nel mio paese dalla cittadina qui sono paesini piccoli vabbè alla fine dell'intervista dove hanno parlato di tanto chiedono ma secondo lei di che cosa abbiamo bisogno oggi in questo clima di guerra eccetera eccetera abbiamo bisogno di tenerezza con tutte le sue conseguenze faccio mie le parole di Eugenio Borgna e lo auguro davvero a tutti ai grandi del mondo ai leader politi religiosi militari alle donne agli uomini a me a ognuno di voi abbiamo bisogno davvero di tenerezza grazie Renato grazie davvero ci sentiamo grazie Renato davvero grazie buona serata grazie a tutti per essere stati con noi grazie grazie a tutti